Stop alle chat dei genitori, questa la decisione presa dall'amministrazione comunale di Monte San Savino, Valdichiana, Aretina. Quindi nella frazione dalle doppie spunte blu si tornerà il vecchio rappresentante di classe e il conseguente rapporto diretto con insegnanti ed amministrazione comunale. Il fatto di poter parlare comunque direttamente e amichevolmente tra i genitori secondo me era molto più importante rispetto a quello che succede oggi che tutto viene messaggiato e finita lì. Una decisione comunicata ai genitori dei piccoli che frequentano l'asilo nido a gestione comunale presa a seguito di alcune problematiche che si erano verificate per errate comunicazioni passate attraverso le chat di gruppo. Tutto servono meno che per quello che sarebbero nate. Se fosse una cosa utile, che si parla delle cose della scuola è utile, ma poi tanto meno che di quello viene usata per qualsiasi altra cosa e quindi secondo me forse potrebbe anche essere utile ritornare ai vecchi metodi. Ovviamente questa scelta ha suscitato reazioni differenti nella frazione della Vallichiana. Non ci vedo niente di male, è un modo di comunicare che purtroppo usiamo troppo oggi il cellulare, però è un modo più semplice per riuscire a mettere d'accordo più persone. Oddio, qualche volta alle 11 di notte insomma rimane pesa la situazione, poi sai, bisogna darsi un pochino delle regole.